Senti Sandra, io so che c'è un cassetto qui a casa tua. Quale cassetto? È proprio questo qui che hai davanti. E allora? E allora siccome so anche che cosa c'è dentro, perché parecchie volte tu mi hai fatto vedere, no? Ci sono dentro i tuoi scritti, le tue poesie. Vediamo una così a casa, posso prendere questa. Non so, avrei voglia di leggerla. Ma è una cosa privata. Ah, privata? Certo, se tu la tieni nel cassetto è privata. Ma se io la leggo può diventare pubblica, no? Ma Enrico, ma io mica sono una poetessa. Ma questo lasciamolo dire al pubblico. Puoi non ti perdere questa occasione di far leggere una tua poesia da me. Oh beh, sì, questo è fantastico. Però te ne stai qui buona buona? Aspetti, hai fiducia? Sì. La fonte dell'oblio, ecco cosa cerco. Non voglio chiavi per le mie prigioni. Io do alla terra quello che mi dà. A questa avara che mi lesina i fiori Che non si scuote alle mie imprecazioni Ma non capisci Chi io voglio amare A te l'indifferenza L'odio, la gelosia A me l'amore Perché ne faccia tempio Sandra Milo Ciao a tutti. Grazie a tutti.